Felicetti è partner della scuola in Cibu, quanto è importante, dato che appunto si parla di Felicetti, quindi un prodotto di eccellenza, quanto è importante l'eccellenza in cucina? L'eccellenza dovrebbe essere per noi italiani la quotidianità, quindi puntare alla selezione delle materie prime e fare in modo che ogni prodotto che viene utilizzato nel momento della cucina abbia un perché. Quindi capire non utilizzare il prodotto perché di modo è richiesto dal cliente, ma quel prodotto deve essere un complemento della realizzazione del piatto finale. Anche nella pasta, scegliere quale tipo di pasta utilizzare, quale tipologia di grano utilizzare. Noi ad esempio nel monograno facciamo quattro tipologie di grano, ognuno dei quali si presta a una preparazione diversa, quindi ciò che posso fare con il mat non è detto che lo possa fare con il senatore Cappelli. Quanto è importante, anche per Felicetti, il fatto che ci sia una scuola come in Cibum che formi i ragazzi in un determinato modo? Allora è fondamentale che esista una scuola come in Cibum. Noi dobbiamo formare prima di tutto le persone, informarle, dargli la possibilità di conoscere i prodotti, capire quali sono le differenze. Una volta che abbiamo formato la persona, che poi diventerà l'operatore, che quotidianamente ci regalerà gioia nel momento in cui ci sederemo alle loro tavole, è quello di insegnarli a cucinare, rendendoli partecipi di quello che è il proprio territorio, quindi saper interpretare quelli che sono i prodotti del proprio territorio, ma non poi bloccarsi a quello che è il chilometro zero, ma quello che è il chilometro buono. Quindi ciò che è buono deve essere valorizzato e interpretato su quelle che sono poi le basi che sono state acquisite in una scuola come questa.